Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, oggi vedremo insieme chi vincerà il premio che vi ho promesso. Dopo vi farò vedere anche qualche soggetto disponibile. E voilà, ragazzi. Oggi andiamo a vedere insomma il Seki il Vaganier. Vi mostrerò anche alcuni soggetti disponibili. Ciao ragazzi. Today we're going to find out the winner. Ok? And later I'm going to show you also some available birds. Ok? Assalamualaikum, How are you? How are you? How are you? Today we're going to find out who is going to win. And later I'll show you a little bit of the birds that you buy. Ok? Allora ragazzi, vediamo un attimo qui è il Fortunato. E ora ragazzi forse qui il Gagnon. Let's check out, guys. It's gonna be the winner. We're going to find out from Serba. Ok? Allora Carlo Fazio il signor Carlo Fazio ha vinto il premio i tuoi video sono sempre molto utili attendevo questo video ti seguo da sempre ti seguo sempre e spero di vincere i semi messi in palio. Ecco qua il signor Fazio ha vinto infatti sono contentissimo per lei leggo sempre i suoi commenti mi fa bia giri che è il premio il premio Dottori l'agra Carlo il 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 carlo è molto utile è difficile di scrivere un video e ogni volta ciò ciò che ciò ti sono 3 ragazzi è molto sempli per partecipare ogni volta che vi annone una video lasciate un commento e e io con questo programma è lui il caro 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 un altro allora il caro in è del caro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.